Servizio filatelico temporaneo con annullo speciale di poste italiane in occasione della Settimana Santa 2018. Un appuntamento atteso degli appassionati di filatelia che si sono recati nella sede della Proloco, ovvero l'ex Circolo dei Nobili, per assistere all'annullo del Franco Bollo e dei piccoli gruppi sacri e del Cristo alla Colonna del pittore Donato Bramante. L'annullo filatelico è un servizio che poste italiane offre alle istituzioni, alle associazioni per celebrare un evento, un grande evento. L'annullo filatelico è un timbro che viene messo in tutte le cartoline che vengono presentate in occasione del giovedì santo. Qui, all'ex Circolo dei Nobili, viene anche conservato questo timbro per tre mesi presso l'ufficio postale di Caltanissetta Leone. Quindi chiunque si perderà questa occasione potrà venire in ufficio postale a Caltanissetta Leone, in via Leone XIII, e noi metteremo il timbro della Settimana Santa per altri tre mesi. Questo timbro poi verrà spedito al Ministero dello Sviluppo Economico, al Museo delle Comunicazioni, e quindi resterà per sempre nella storia e quindi poi è stato già inserito in tutti i siti web di poste italiane e quindi tutto il mondo già sa che esiste questo timbro di questo grande evento che è la Settimana Santa di Caltanissetta. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della mostra sul tema Misteri Sacri e Filatelia, organizzata dalla Proloc e dall'Associazione Nissena Filatelica e Numismatica, in collaborazione con il Comune, un istituto di credito, che potrà essere ammirata sino alle ore 22 del 30 marzo. La Settimana Santa è un momento centrale per la città e abbiamo coinvolto intanto gli amatori di foto e facendo il secondo concorso scattiamo la Settimana Santa. 20 foto sono esposte qui al punto informativo e gli stessi visitatori possono dare il giudizio su queste foto per vedere quale sarà la foto Settimana Santa del prossimo anno. Contestualmente abbiamo una meravigliosa mostra di Filatelia e ringrazio per questo l'Associazione Numismatica Missena di aver contribuito e di averci seguito in questo percorso. Faremo anche l'annullo dei francobolli con una cartolina che daremo a coloro i quali lo desiderano e la cartolina rappresenta la pietà. È una iniziativa dove con l'annullo rimane indelebile e storicamente siglato che la Settimana Santa è da ricordare con il simbolo anche della nostra Proloc e del lavoro che noi abbiamo fatto assieme ai nostri ragazzi del servizio civile. La mostra filatelica nasce nella necessità di accompagnare con un evento culturalmente significativo quale appunto la mostra dei francobolli in cornice alla Settimana Santa Missena. La mostra nasce anche e soprattutto come rilancio di quella che è la passione per la filatelia e soprattutto per ricordare una delle emissioni, anzi l'unica emissione filatelica che è stata fatta dedicata proprio a Caltanissetta, ai piccoli gruppi sacri. Grazie.